tu giovanotto lo sai che cos'è un prete è la cosa più pericolosa che esista a questo mondo è la più pericolosa perché il prete deve essere fuoco e il fuoco è molto pericoloso il prete è fuoco perché l'ha detto cristo io sono venuto a portare il fuoco sulla terra ma se il fuoco è molto pericoloso i suoi composti sono assai più pericolosi pensa alla bomba al missile al tritolo all'idrogeno all'uragano all'incendio ciò che è la bomba h nel campo fisico sperimentale potrebbe essere il prete nel campo etico spirituale cristo era un prete ed ha capovolto la storia universale paolo era un prete e ha scosso l'impero romano benedetto era un prete e ha rovinato l'egemonia barbarica pio settimo era un prete e ha rovinato napoleone schuster era un prete e ha fatto tremare mussolini fullhaber era un prete e spaventò hitler il prete è un rogo brucia se stesso e gli altri ecco giovanotto mio perché il prete è la persona più pericolosa del mondo però se è un vero prete lui può far divampare ogni momento l'incendio d'amore e l'amore è dinamite se il cristianesimo è un paradosso il sacerdote in mera in se stesso l'acutizzazione massima di questo paradosso grazie a tutti